Queste che avete sentito sono idee per le prospettive, ma anche problemi possibili che si creeranno a partire da oggi stesso. Ma la fase 2 era stata annunciata come una fase di passaggio, dopo la fase 1, appunto la fase dell'emergenza. Nella fase 2 ci sarebbero dovuti essere tamponi, molti tamponi, e tracciamenti. Invece i tamponi ci sono, ma in alcune regioni sì e in altre no, e per i tracciamenti, per questa app famosa, invece bisognerà ancora aspettare. Professor Ricciardi, che è successo? Sui tamponi diciamo che noi dal punto di vista quantitativo siamo in media il paese che ne fa di più il rapporto alla popolazione. Però come sempre succede in Italia, questo non è equamente distribuito, per cui ci sono regioni che ne fanno veramente tanti, e li fanno anche in maniera adeguata, altri che ne fanno veramente pochi e soprattutto non in maniera mirata. L'optimum sarebbe quello di fare i tamponi a tutti coloro che sono sintomatici nel momento dell'esordio della loro sintomatologia. Quindi quando la sintomatologia è lieve, in maniera tale da identificarli precocemente e naturalmente da curarli precocemente. E poi il secondo passaggio è quello di fare il tracciamento tecnologico, cioè vedere attraverso questa app la persona positiva con chi è stato in contatto, con un meccanismo non invasivo e lesivo della privacy, che è il bluetooth a bassa intensità, e che naturalmente rintraccia tutte le persone che sono state in contatto stretto con questo soggetto positivo. Purtroppo, lo dicevamo prima, questo meccanismo di concorrenza, nel senso etimologico del termine, tra Stato e Regioni, in Italia rallenta tutte le decisioni. E quindi sia per quanto riguarda i tamponi, va bene dare delle linee guida, ma poi sono le regioni che le devono eseguire. C'è chi lo fa bene, chi lo fa meno bene, chi non lo fa proprio. Ci sono naturalmente delle indicazioni, ma oggi praticamente ogni regione ha la sua app, e quindi anche la app nazionale dovrà correlarsi con le specifiche app regionali. E dietro le app regionali naturalmente c'è la sanità regionale, per cui non c'è una regia unica che ci consenta di fare rapidamente quello che nella fase 2 è necessario fare, cioè identificare precocemente i casi positivi e isolarli. Senta, professore, ma i test sierologici invece sono stati individuati, i 150.000 italiani a cui andrebbero fatti, che potrebbero fornire, diciamo, una idea dell'andamento dell'epidemia. Intanto come sono stati scelti questi italiani? Li vorremmo fare tutti noi questi test, ma avrebbe valore o no? No, non avrebbe valore. Ha un valore il senso dell'indagine sieroepidemiologica, quella per cui lo Stato avrà 150.000 test sierologici che sono stati scelti sulla base di un'evidenza scientifica garantita da una commissione con grandi esperti, che ha scelto questo test e che in questo momento è quello più affidabile. È un test non rapido, è un test tradizionale, immunoenzimatico che andrà a studiare appunto che cosa è successo nel passato. 150.000 italiani verranno studiati in funzione della loro localizzazione geografica, della loro età, saranno rappresentativi della popolazione italiana e quindi sapremo il virus come è penetrato. E che cosa scopriremo? Che in alcune regioni è penetrato di più, in altre di meno, ma siamo ben lontani da quella soglia di immunità di gregge che è del 70, dell'80%. Probabilmente in Lombardia staremo intorno al 10, 15, in altre regioni staremo all'1. Quindi non possiamo fidarci dell'indagine sierologica per risolvere i nostri problemi. Professore, mi tolgo una curiosità, la tolgo anche a chi ci sta ascoltando e ci sta seguendo da casa in questo momento, ma allora è superfluo, è inutile fare i test sierologici nei laboratori privati come molti stanno correndo a fare? Ma guardi, i test sierologici fatti nei laboratori oggi in questo momento sono tanti, l'offerta da parte delle aziende è numerosa, il problema vero è che gli studi, ne è uscito proprio uno oggi, ci dicono che sono ancora non completamente affidabili. Il test viene valutato in funzione sostanzialmente di due parametri, quello della sensibilità, cioè della capacità di identificare i malati, e della specificità, cioè di identificare esclusivamente i malati, quindi escludendo sia i falsi negativi che i falsi positivi. Per una serie di motivi legati al coronavirus, questi test oggi non ci danno un grande affidamento, soprattutto quelli rapidi, per cui non voglio dire che sono soldi buttati, perché esagererei, però nessuna struttura sana di mente spenderebbe tantissimi soldi basando la propria strategia su questi test attuali. Probabilmente tra un po' avremo dei test affidabili, allora avrà un senso cercare di farli quanto più possibile, ma soltanto dopo che saranno giudicati attendibili al 100%.